Offset, questa misura, definisce la distanza tra il piano centrale del cerchio ed il piano fissato allo stesso, cioè al mozzo. Questo valore può essere negativo, cioè quando va verso l'interno, e quindi diminuisce la carreggiata delle ruote, mentre si definisce positivo quando va all'esterno e quindi c'è un aumento di carreggiata. Grazie.